Musica Impariamo in questa lezione un altro piccolo gruppo di sostantivi. Un gruppo di nomi di uso comune in medicina. Dal medico Il medico Il dottore Der arzt Riascolta e ripeti due volte. Der arzt Lo studio del dottore Riascolta e ripeti due volte. Die arztpraxis La sala d'aspetto Riascolta e ripeti due volte. Das watezimmer Das watezimmer La visita Die untersuchung Riascolta e ripeti due volte. Die untersuchung Misurazione della pressione sanguigna Riascolta e ripeti due volte. Blutdruck Blutdruck messen Eruzione cutanea Da morbillo Da morbillo Der ausschlag Riascolta e ripeti due volte. Das watezimmer La compressa La compressa La pastiglia Die tablette Riascolta e ripeti due volte. Riascolta e ripeti due volte. Riascolta e ripeti due volte. L'assicurazione sanitaria Riascolta e ripeti due volte. L'assicurazione sanitaria La tessera sanitaria Riascolta e ripeti due volte. Riascolta e ripeti due volte. La ricetta Das rezept Riascolta e ripeti due volte. Mi sono ammalato Mi sono ammalato. Mi sono ammalato. Riascolta e ripeti due volte. Io ho dolore. Sono indolenzito. Riascolta e ripeti due volte. Sono indolenzito. Il medico, il dottore, der arzt. Riascolta e ripeti due volte. Der arzt. Der arzt. Lo studio del dottore. Die arztpraxis. Riascolta e ripeti due volte. Die arztpraxis. Die arztpraxis. La sala d'aspetto. Das watezimmer. Riascolta e ripeti due volte. Das watezimmer. Das watezimmer. Das watezimmer. Blutdruck messen. Riascolta e ripeti due volte. Blutdruck messen. Blutdruck messen. Eruzione cutanea da morbillo. Riascolta e ripeti due volte. Das watezimmer. Blutruck messen. Der ausschlag. Blutruck messen. Der ausschlag. Blutruck messen. Der ausschlag. La pastiglia. Di tablette. Riascolta e ripeti due volte. Di tablette. Di tablette. Di tablette. Di tablette. Di tablette. Di tablette. Riascolta e ripeti due volte. Di tablette. La ricetta Riascolta e ripeti due volte. Mi sono ammalato. Riascolta e ripeti due volte. Io ho dolore. Sono indolenzito. Riascolta e ripeti due volte. Io ho schmerzi. Io ho schmerzi. Impariamo in questa lezione un altro piccolo gruppo di sostantivi. Un gruppo di nomi di uso comune in medicina. Dal medico Il medico Il dottore Der arzt Riascolta e ripeti due volte. Der arzt Riascolta e ripeti due volte. Die arztpraxis La sala d'aspetto Riascolta e ripeti due volte. La visita Riascolta e ripeti due volte. Die untersuchung Die untersuchung Misurazione della pressione sanguigna Glutdruck messen Riascolta e ripeti due volte. Glutdruck messen Eruzione cutanea Eruzione cutanea Da morbillo Der ausschlag Riascolta e ripeti due volte. Der ausschlag Der ausschlag La febbre Das fieber Riascolta e ripeti due volte. Das fieber Das fieber La compressa La pastiglia Die tablette Riascolta e ripeti due volte. Die tablette Die tablette La pomata Die salbe Riascolta e ripeti due volte. Die salbe Die salbe L'assicurazione sanitaria L'assicurazione sanitaria Riascolta e ripeti due volte. Riascolta e ripeti due volte. Riascolta e ripeti due volte. L'assicurazione sanitaria L'assicurazione sanitaria Riascolta e ripeti due volte. 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 Grazie.